ciao allora ebbene sì wish ha colpito ancora e questa volta vi faccio vedere dei peluche che io personalmente adoro perché come sapete io amo le cacchette io le adoro perché sono nata sono cresciuta nel periodo di dato slam perale per me le cacchette sono fantastiche anche se ora stanno un po tornando fuori in questo periodo dei giochi con delle cose sorpresa io le ho sempre amate perché mi piacevano erano simpatiche allora qui vi mostro il peluche che ho preso su wish a forma di cacchetta allora dunque ognuno perché sono due ognuno lo paga dunque costava un euro l'articolo e 2 euro l'ospedizione ma io ho preso con un gruppo d'acquisto quindi 90 centesimi comunque però avevo sconto del 10 per cento quindi 0 82 quindi 2 euro e 82 l'uno quindi a meno di 3 euro allora è grande perché è grandina è morbidissima e poi lui è il maschietto che è super peluscioso è anche bello morbido e poi è stampato bene è carinissimo eccolo qua ma ovviamente non potendo lui restare da solo perché è in bella mostra ovviamente devo prendere anche la femminuccia quindi anche lei ha la faccina diversa guardate proprio hanno la faccina diversa lei sorride ha il blush ha gli occhi più carini ha il fiocchettino perché è una cacchetta col fiocchettino è più bellina sono carinissimi sì lo ammetto ed è sono assieme agli altri pelusci perché io sono una patita dei pelusci sono anche loro assieme perché stando benissimo e poi io sono un appassionata non so se voi siete amanti del genere però davvero cioè sono carinissime sono morbide sono bellissimi come pelusci io ho qualche problema ne sono convinta però sto completamente regredendo all'infanzia io ho sempre amato queste cacchettine ultimamente ho visto che stanno tornando di voga di voga in voga con vari giochi anche a tema però può piacere o no io sono sempre stata una grande appassionata chi ricorda i miei tipi dottoslamp e arale capirà capirà tante cose questa è carinissima ma la coppia dovevo prendere la coppia sono anche due tipi di marrone un pochino diversi lui più scuro lei più chiaro perché maschio e femmine si va bene ok ho qualche leggero problema dire allora voglio sapere da voi tanto se vi piacciono se sono carine o se sono completamente assurde se vi ho tenuto un pochino di compagnia ed è fatemelo sapere magari mettetemi un like a questo video velocissimo iscrivetevi al canale e mi raccomando a cliccare sulla campanella così vedete avvisato ogni volta che carico un nuovo video a tema ed è assurdo ma comunque con i miei acquisti online da wish perché io ho inutile su wish trovo di tutto e allora alla prossima intanto ciao